L'intensa mareggiata di ieri che ha interessato anche la costa terramana come facilmente prevedibile ha gravato ancora di più la già difficile situazione del litorale di Alba Adriatica. Danni evidenti ad una serie di concessionari e le strutture più colpite sono state Alba Beach, Cocoloco e La Primula che hanno visto crollare in mare le cabine e danneggiati gli stabilimenti. La Primula è attualmente inagibile e non si sa se si potrà ripristinare dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco. Quindi la situazione è drammatica e l'intervento non è che potrà aspettare le tempistiche delle programmazioni e di quant'altro. è sicuramente uno stato di emergenza questo. Quindi adesso sono andata giù io, non so quante altre persone dovranno andare giù prima di porre rimedio a questa situazione. Cioè noi ce la mettiamo tutta, ogni volta ripartiamo da zero, ricominciamo, ricostruiamo, facciamo tutto, cerchiamo di dare la miglior raccoglienza possibile ai turisti, ma questo non è più possibile. Uno scenario di distruzione simile a quello del 2019, ma con effetti ancora più preoccupanti, sia perché il fronte si sta progressivamente spostando verso sud, ma anche perché la mareggiata ha scavato tanto riducendo ulteriormente i piccoli lembi di arenile rimasti. Non ci sono più le condizioni, non abbiamo più arenile, non abbiamo più gli strumenti per difenderci, perché le scogliere, i massi a ridosso delle strutture, cioè io vengo dalle Marche, non li ho mai visti, li vedo solo in regione, nella regione Abruzzo. Scusatemi, ma mi sembra di tornare indietro di cento anni. I massi si mettono in mezzo al mare per ricreare arenile. Una condizione allarmante sulla quale il comune albenze chiede un intervento immediato alla regione Abruzzo. Si prende atto di un intervento che non ha dato i risultati sperati, ma non ci si può fermare qui. Bisogna agire con un intervento strutturale. Non escludo delle azioni più incisive e decisive rispetto al tema, e anche la richiesta, valuto, la richiesta di uno stato di emergenza per gli ingenti danni, ed eventualmente anche un incarico ad un legale per il danno d'immagine che questa città sta subendo. Chiedo quindi alla giunta regionale di recarsi in questi luoghi e vedere diviso cosa la città sta subendo. Specifico che la competenza sul demanio è della regione. La regione ha una competenza non solo giuridica normativa, ma anche degli uffici tecnici, uno staff. E non dimentichiamo che la regione ha investito ingenti risorse anche per affidare alle università degli studi relativamente al fenomeno erosivo. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico affinché vengano adottate delle decisioni, ma i tempi non è che sono maturi, i tempi sono anche trascorsi rispetto ad un fenomeno che sta aggredendo questa città da anni. Grazie a tutti.